Quinta edizione di EnergyMed alla mostra ad oltremare dal 22 al 24 marzo. La mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica del Mediterraneo diventa un appuntamento annuale ed in questa edizione si divide in tre saloni tematici, Eco Building, Recycle e MobilityMed. EnergyMed è il più importante appuntamento del settore dell'energia pulita del Sud Italia e del Mediterraneo. Promosso fra gli altri dal Comune di Napoli ed organizzato dall'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, alla tre giorni parteciperanno imprese, istituzioni, istituti di ricerca, università ed esperti del settore, 200 espositori in uno spazio di 10.000 metri quadrati. C'è un grosso interesse degli operatori di tutta Italia a venire a Napoli perché ritengono che ci siano delle opportunità nel centro-sud Italia perché finalmente si sta instaurando e si sta avviando un percorso virtuoso di raccolta dei rifiuti e qui pensiamo che Napoli si è candidata, si candida a essere una smart city e quindi una città intelligente, una città che è in grado di rispondere alla nuova sfida europea per avere risparmio energetico, qualità dell'aria pulita, mobilità sostenibile. Sono temi su cui stiamo lavorando e oggi nel corso dell'EnergyMed presenteremo anche alcuni risultati importanti. Gli argomenti principali di quest'anno saranno l'edilizia sostenibile di progetti finalizzati all'efficienza energetica, la mobilità sostenibile attraverso veicoli a basso impatto ambientale ed il recupero di materia ed energia dei rifiuti. A questi temi saranno dedicati 17 workshop e convegni, oltre ad iniziative che consentiranno ai visitatori di sperimentare direttamente, ad esempio, la mobilità sostenibile alla guida di vetture elettriche. Si parla di energia pulita, di riciclo, di elettrico, di solare, di bicicletta, insieme a istituzioni, associazioni, imprese, dimostrazioni che con questo settore si può progettare una città più vivibile. È chiaro che ci vuole anche un approccio culturale diverso. La nostra città è pronta a questo cambiamento, è pronta agli autobus elettrici, alle biciclette, a una mobilità sostenibile, perché questo significa meno inquinamento, significa più vivibilità, significa meno malattie cardiorespiratorie, significa portare più turisti e anche posti di lavoro, perché appunto in questo modo, e lo dimostra questa iniziativa di EnergyMed, si creano con il solare anche posti di lavoro importanti, così come nell'economia verde, nel riciclo, nel riciclaggio in materia di rifiuti. Quindi è una grande scommessa che mette insieme il mondo delle imprese, il mondo del lavoro e le istituzioni più sensibili in questa direzione.